Quando un enorme cosa vicino attacca... ...c'è bisogno di un grande eroe che possa intervenire! E ora al lavoro! Quando i cattivi cominciano le loro scorribande... Non ho idea di che cosa stia accadendo qui! È il momento in cui un eroe si lancia all'attacco! Evviva! È il momento dell'eroe! Nuova serie in arrivo solo su Cartoon Network! Grazie!